chissà se va e sì che va diceva la grande raffaella carrà bentrovati e trovati 28 aprile con l'almanaco e con l'oroscopo ciao da mauro santa valeria come la marini compleanni paola barale sugar conduttrice è nata a possano in provincia di cuoneo nel 1967 e poi c'è lui pier silvio berlusconi è nato il 28 aprile del 1969 e prima di seguire la fortuna e gli astri la frase di oggi 100 cavalli non possono tirare indietro una parola data ariete alimentate i pensieri positivi avrete così la giusta carica di ottimismo per riuscire ad affrontare circostanze nuove senza riserve mentali belle aperture per la vita sentimentale in famiglia confidatevi e sarete capiti toro difendete il vostro pensiero con molta fermezza nel lavoro riuscirete a rientrare in gioco da protagonisti non lasciate dei sospesi con la persona amata un dialogo aperto rilancia l'intesa incassi in arrivo gemelli giornata decisamente molto favorevole e quindi ottime chance in tutti i campi per voi aumenta la fiducia in voi stessi grazie anche a gratificazioni e successi difendete gli spazi del cuore e non razionalizzate troppo i sentimenti cancro salvaguardate i vostri spazi personali e tenetevi alla larga dagli invadenti stasera i sentimenti hanno delle ottime possibilità per potersi espandere necessità di uscire dai soliti binari per assaporare gusti nuovi attenzione a non perdere troppo il contatto con la realtà leone belle soddisfazioni nel campo delle amicizie le vostre aspettative trovano conferma accettate un invito promettente per il futuro sviluppi in vista per il lavoro per il momento lasciate che siano gli altri a fare la prima mossa vergine molte emozioni che possono diminuire la resa intellettuale un po di relax veggioverebbe un chiarimento salutare con la persona amata lo avrete questa sera situazione economica da tenere sempre sotto controllo buone notizie le riceverete per posta oppure al telefono bilancia oggi vi sentirete proiettati in avanti potrete espandervi guardare lontano stimolate i viaggi e i rapporti con l'estero date respiro ad un rapporto amoroso che ha bisogno di alleggerirsi per prendere il volo scorpione siate realisti nei rapporti con il mondo esterno riuscirete a prendere in contropiede qualcuno che cerca di mettervi in difficoltà non abusate delle vostre forze e createvi invece momenti di relax in serata per poter riprendere e riconquistare la vostra forma sagittario è il giorno adatto per programmare ma non abbiate fretta di passare all'azione c'è tempo difendete con determinazione i vostri spazi personali attenti a non lasciarvi soffocare da eccessive pretese apritevi con chi è in sintonia con voi capricorno ridimensionate una divergenza di idee che provoca qualche tensione in famiglia in amore siate fino in fondo sinceri con voi stessi e rinunciate ad un compromesso nuove conoscenze sono da coltivare accettate e ricambiate gli inviti per questa sera acquario i favori dei pianeti vi aiutano ad agire senza riserve ottima capacità di recupero e straordinario magnetismo che vi regala belle conquiste creatività in amore è il giorno decisivo per chi aspetta l'incontro giusto non fatevelo scappare pesci bisogno di autonomia ed ottime energie per reagire contro limitazioni che vi tolgono spazio un po di autoanalisi servirà a farvi trovare le giuste motivazioni per dare battaglia in amore sappiate anche voltare pagina